Due anni fa la scomparsa di Umberto Eco, per ricordarlo abbiamo un ospite in collegamento da Genova, benvenuto Dan Kosinger, direttore del Festival della Comunicazione di Camogli. Dunque, buongiorno, buongiorno. Eco aveva inaugurato la prima edizione del festival cui fu molto legato. Allora, per parlare della sua eredità, le chiedo innanzitutto cosa significava per Umberto Eco comunicare nell'età di internet e come è possibile oggi la ricerca della verità? Umberto Eco, fin dagli inizi dei suoi studi, dei suoi scritti, ha sempre avuto una grande attenzione a tutti gli aspetti della comunicazione. Ovviamente quello che era negli anni 60, poi quando lui scrisse apocalittici integrati, era una comunicazione basata sui media di allora, radio, televisione e quindi, oltre ovviamente a libri, giornali, pubblicità. E pensava che lo strumento della comunicazione fosse quello principale perché è un veicolo di socializzazione, di lotta politica, di approfondimento, di interessi che lega tutti gli aspetti sociali di una nazione, non solo, ma anche a livello internazionale. Ecco, Umberto Eco è stato tra i pochi intellettuali italiani, possiamo dire, ad avere una dimensione realmente internazionale, globale. Perché secondo lei? Innanzitutto, secondo alcuni studi che sono usciti pochi anni fa, gli italiani più famosi, più noti nel mondo per i loro scritti, per i loro contributi letterari, nell'ordine Dante Alighieri, Umberto Eco e Italo Calvino. E credo che questa fama sia ben riposta. Beh, Eco ha una cultura, direi, particolare, perché lui, grande studioso di semiotica e opera aperta e altri studi di semiotica sono state le prime sue importanti opere. Poi è stato anche filosofo, scrittore, mediologo, enciclopedista. Aveva una cultura gigantesca e quindi la sua fama andava a seconda dei vari campi in cui i suoi interessi si posavano, suscitava attenzione e ovviamente anche approfondimento e voglia di conoscerlo sempre più da vicino. La sua attenzione sui media, soprattutto i social media, era ovviamente cresciuta nel corso degli anni e l'ultima volta in cui si espresse in pubblico, prima dell'ultima apparizione al Festival della Comunicazione nel 2015, è stata nel giugno del 2015. Lì lui ricevette la sua ultima laurea ad honorem, la ricevette all'Università di Torino, che era stata la prima dove lui si era laureato a metà degli anni 50. Quindi a 60 anni di distanza ricevette una seconda laurea ad honorem, che era sua la 44esima, credo che sia stato sicuramente l'uomo che ha ricevuto più laurea ad honorem al mondo, l'uomo italiano. E lì a seguito di una domanda di che cosa pensava sui social media, lui diceva «Beh, ai miei tempi, quando qualcuno aveva qualcosa da dire di ridicolo, banale, ci si vedeva al bar e le sue battute, anche orché prive di senso o di luogo, rimanevano tra i quattro amici lì seduti». Beh, oggi chiunque ha la possibilità di equipararsi a un premio Nobel lanciando idee, provocazioni, anatemi, tweet e viene considerato come una persona in gamba. Questo è il pericolo dei social media e quindi cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo fare in modo che ci sia un'attenzione, un filtraggio, una consapevolezza, una capacità di capire, di conoscere quali sono le cose importanti della vita e di chi e come possiamo affidarci e invece di fidare di coloro che invece sono pericolosi e quindi determinano le famose fake news. È in tournée la prima versione teatrale del nome della rosa. Allora, vediamo il servizio di Micol Pieretti, poi ne parliamo insieme. Lo spettatore va a casa con la sensazione di aver visto tutto il nome della rosa di Umberto Eco. Serrato come un thriller e con spettacolari cambi di scena che però lascia spazio ai duelli dell'intelletto, fra fede e verità. A quasi 40 anni dall'uscita in libreria debutta a teatro Il nome della rosa, un successo planetario da 50 milioni di copie vendute in 47 lingue. Romanzo storico, saggio fantasy filosofico e un giallo avvincente sull'immaginaria abbazia funestata da delitti, su cui indagano nel 300 il francescano Guglielmo da Baskerville e il novizio Azzo. Un intrigo che cattura ancora generazioni di lettori, ma ad affascinare soprattutto la sede di conoscenza dell'antieroe Guglielmo. Guglielmo tutto sommato non è un personaggio vincente. Questa ricerca lo porterà a scoprire il colpevole che morirà, insieme a lui sono morti tanti prima di lui, l'abbazia brucerà, quindi tutto lo scibile contenuto in quella grande biblioteca verrà distrutto, così come verrà distrutto il movente principale, cioè il secondo libro della poetica di Aristotele che tratta della commedia. Quindi in realtà si risolve il caso, ma a che prezzo? Un intrigo avvincente che a 30 anni dal film cult di Jean-Jacques Canot diventerà presto una serie tv prodotta da Ray Fiction con John Turturro e Rupert Evere. Singer, 40 anni fa l'uscita nelle librerie del nome della Rosa ed è ancora un bestseller. Secondo lei qual è il segreto del successo? Il successo di questo romanzo è che probabilmente è capitato nel momento giusto e non solo, ma soprattutto anche per la capacità di Eco di mettere insieme gli intrighi, la storia, la cultura, la letteratura, la paura, la verità, la ricerca anche del sapere. Lui è sempre stato molto abile a tenere insieme tutte queste anime di una grande cultura letteraria e lì probabilmente è stata la prima volta che uno scrittore, ma un grande esperto, un grande storico anche del Medioevo, che nel periodo a cui lui era più legato, è riuscito a dare la capacità a tutti di trovare nel libro qualche cosa che lo incuriosiva, che lo appassionava. E questa è stata anche una grande capacità sua anche di cogliere qual era lo spirito e la sensazione del tempo. Senta, quando ci sarà la prossima edizione del Festival della Comunicazione di Camogli e sapete già quale sarà il tema? Certamente il tema del prossimo festival, che sarà a Camogli dal giovedì 6 a domenica 9 settembre e che vedrà per la quinta volta la RAI come media partner, il tema sarà visioni. E ovviamente all'interno di questo tema potremo cogliere tutte le articolazioni, tutte le sfaccettature insieme a tutti i grandi ospiti che racconteranno, descriveranno e ci presenteranno quello che vuol dire oggi nella società del terzo millennio le visioni. Visioni dal passato al presente per vedere quali saranno le visioni del futuro. Grazie a tutti.